Tutti amici dei fuoricampo, ce l'abbiamo fatta, siamo in finale, un'altra volta per il secondo anno consecutivo la Roma è in finale, la Roma è a Budapest, grande, grande musigno che esce dal campo ridendo con le braccia aperte, una vittoria tutta sua, una Roma di sofferenza, una grande partita difensiva dei giallorossi che hanno preso sì tantissimi tiri da fuori ma che non hanno concesso praticamente neanche un'occasione, tolta la traversa di Abigo, lui Patricio è un po' colpevole, neanche un'occasione a una squadra che comunque di potenziale offensivo ne ha tanto ma ancora è una squadra giovane, una squadra che si poteva battere, una Roma al completo probabilmente e bene fisicamente avrebbe potuto fare una gara diversa e invece la Roma ha fatto una gara di cuore, di grinta, di difesa, di coraggio, grande partita di Bove, grandissima partita di Zalewski, Cristante, Ibanez, oggi ragazzi oggi Ibanez merita un 10, è un giocatore che sbaglia tanto ma troppo spesso non viene sottolineato quando fa bene, grande Roger, siamo a Budapest, siamo in finale, tagli Roma!